Ciao a tutti ragazzi, oggi 11 settembre 2015 è uscito Super Mario Maker, questa è la versione per Wii U ovviamente, questa è la versione con l'Amiibo e l'Artbook, l'Artbook è anche nella versione normale e poi c'è la versione digitale del Nintendo Shop. Ovviamente questa versione è per festeggiare i 30 anni di Mario e un pochino a vedere prima di tutto lo scatola come si presenta, qua abbiamo quello che ci esce, quindi il gioco, l'Artbook e l'Amiibo del trentesimo anniversario, colori classici, esiste anche la versione colori moderni e poi dietro abbiamo scritto in varie lingue degli esempi di livelli creati, tra cui il primo Mario, Mario Bros 3, Mario World e Mario Wii U e questo è come si presenta di lato, quindi procediamo nell'apertura Subito all'interno abbiamo la custodia del gioco, molto carina con tutti questi disegni delle iconi, dei vari oggetti e nemici, dei power up di Super Mario qui abbiamo più o meno quello che c'era dietro la scatola che si vede uguale poi abbiamo l'Artbook Super Mario Maker che è anche scaricabile comunque in pdf da internet comunque questa è la versione ovviamente cartaggia faccio vedere un paio di blocchi ci sono alcuni esempi dei nemici alcuni esempi della costruzione dei livelli e quant'altro, insomma molto carino per chi qua per esempio abbiamo un esempio del livello, come è costruito eccetera non ve lo faccio vedere tutto per non spoilerare troppo comunque molto bellino soprattutto per ripercorrere la storia di Mario è anche bello, bello ampio, qua abbiamo un livello sott'acqua come è fatto con le varie suddivisioni ci sono pure gli appunti in lingua originale molto molto carino molto molto carino dopodiché abbiamo anche l'amiibo ovviamente del trentesimo anniversario che sia ai fini collezionistici sia ovviamente che sblocca un power up speciale all'interno del gioco qui abbiamo la descrizione queste le nuove con Nintendo 3DS insomma ragazzi è una bella secondo me collector soprattutto per festeggiare i trent'anni di Mario abbiamo comunque il tutto 659,98 euro e ora abbiamo un gioco quindi la scatola ovviamente impreziosita da questi inserti un artbook e l'amiibo contando che il gioco viene 44 euro l'amiibo 15 euro siamo lì alla fine ho preso tutto insieme comunque amo Mario sono cresciuto spero vi sia piaciuta ci vediamo presto ragazzuoli ciao a tutti lasciate un like se volete iscrivetevi ciao a tutti